Ecco sei cose che non sai di Nintendo DS. Ha un touch screen per un controllo totale e immediato del gioco. Sfrutta la tecnologia wireless per farti giocare con gli amici che ti circondano mediante l'utilizzo di una sola cartuccia gioco e la Nintendo Wifi Connection per giocare in rete con quelli più lontani. Il tuo Nintendo DS riconosce la tua voce e risponde ai tuoi comandi vocali. Ha una fantastica grafica 3D per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. L'unico confitto chat per scambiare messaggi e disegni in tempo reale con gli amici. Tutto questo e molto altro ancora. Nintendo DS. Touch me.